Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi sono in compagnia di Bella Faccia che a quanto pare è il creatore della mappa Ciao Bella Faccia Ti sta parlando? Sto parlando io, il tuo migliore amico Ti sta parlando Oggi ragazzi ci troviamo in una mappa di guerra Perché io Bella Faccia ci dovremmo sfidare con delle frecce piuttosto paurose Per esempio abbiamo la freccia del meteorite La freccia dei creeper La freccia del wither O la freccia dei fuochi E così via Quella è la mia isola E quella è la sua isola Hai voglia di giocare Bella Faccia? Chi sta parlando? Sto parlando io, è inutile che mi dici Ah la plebaglia Ok iniziamo, la plebaglia Bene Bella Faccia, sei pronto al combattimento più devastante della tua vita? Sono pronto, sono pronto Allora ragazzi qua dentro, dentro questa casetta Ci abbiamo il nostro shop che come vedete vende delle frecce piuttosto interessanti Qua ci abbiamo la freccia meteora La freccia della pioggia La freccia dei creeper C'è veramente tantissima roba E adesso cosa dobbiamo fare? Vi starete chiedendo probabilmente Prima di tutto voi dovete lasciare un mi piace a questo video Cioè giusto Bella Faccia Penso sia Eh beh direi di sì Eh tipo d'obbligo no? D'obbligo Dopodiché dobbiamo prendere tutti i materiali Perché con questi materiali possiamo comprare le nuove frecce Ah mi spiace un po' per te Bella Faccia perché sarà la tua fine tra non molto No no a me spiace per te Perché? Eh perché mi spiace perché vedrai tutta la mia potenza breve Sì 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 ok va bene Io nel frattempo ragazzi cerco di prendere tutti i materiali migliori perché Come avete già ben visto Se prendi tutti i materiali migliori Tutti i minerali Se prendi il carbone Se prendi l'oro Questo e quell'altro Poi puoi comprarti le frecce migliori E diciamo che qua vincerà sicuramente il primo che riesce a comprare le cose più potenti Veloce veloce allora Te sei già in caverna? Io sono già in caverna Ok io mi sto riempiendo di carbone Non vedo l'ora di utilizzare la freccia meteorita perché ti cadrà proprio dal cielo e ti distruggerà tutto quanto No quella è proibita non si può usare Ovviamente no non è proibita Ovviamente ragazzi vincerà chi riesce a uccidere l'avversario cioè come in una guerra è giusto no? Eh beh direi Quindi se io ti batto ho vinto e te devi fare una peritenza o farò togliarti i capelli a zero No non avevamo detto così Sì 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 prima di fare il video ti avevo detto allora bella faccia facciamo una Ma tu sei infatti Cos'hai paura di perdere? Putteli devi Io me li sono già tagliati a zero una volta Tu non l'hai mai fatto quindi ora che lo fai Aspetta aspetta sentite anche voi ragazzi io sento un Gallina Ha paura ha paura di tagliarsi i capelli No 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 sei tu che hai paura di perdere Allora gli smeraldi sono molto molto importanti Gli smeraldi oro e lava ecco perfetto Cerchiamo di non morire nella lava perché sarebbe veramente imbalazzante Gli smeraldi oro e lava grazie No no non puoi prendere appunti bella faccia Smeraldi oro e lava hai detto? Sì 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 devi buttarti nella lava è importantissimo Guardate quanti smeraldi No no vabbè ancora Io potrei essere ricco Potrei essere ricco bella faccia Abbiamo ancora due minuti di tregua Abbiamo la tregua? Beh direi di sì eh Altrimenti cosa? Ma vuoi che ti attacco subito? Ma va non hai niente per attaccarmi sono sicuro è un bluff Pensi di no? Tu lo pensi? Non lo so in realtà Vuoi rischiare? Non lo so Allora devo arrivare a venti di carbone ragazzi Con venti di carbone poi faccio il macello Il devasto Lo faccio fuori a bella faccia Ve lo assicuro Questa volta Questa volta a bella faccia Stai giocando contro la persona sbagliata Te ne pentirai Piangerai Piangerai lacrime amare Amare? Che schifo Ok 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 Ho un bel po' di roba Credo sia arrivato il momento di salire E comprare le prime frecce Non vedo l'ora di farvi vedere le frecce più potenti I diamanti in realtà non servono a nulla sai Cioè no 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 Non servono a nulla Servono Prendili tutti Servono tantissimo Ah si 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 servono tanto Servono tanto Prendi tutti i diamanti che trovi Non mi freghi Ok ragazzi è arrivato il momento Adesso entreremo all'interno dello shop E vediamo cosa possiamo comprare Per esempio Cosa era quel ma? Belle queste due mi piacciono Poi posso prendere Oh una bella freccia meteorite Certo certo Frecce di fuoco Poi cosa abbiamo? Oh mi serve della sabbia Ok sabbia Bene No problem Dov'è la sabbia? Sei pronto Kendall? Tu sei pronto bella faccia Di le tue ultime preghiere Perché guarda un po' Dove sei? Oh è dentro casa ragazzi Bene Allora gli tiriamo Che cosa è stato? Un paio di sorpresine Guardatela ragazzi Oh no ci sono i creeper Oh mamma mia Guardate guardate Oh no 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 Calma calma Oh avete visto ragazzi? Non ci posso credere Allora queste sono le frecce di fuoco Guarda Dove sei? Ma che cavolo è? Cos'è pensi di scapparmi Ve la faccia eh? Ma beccati Guarda Benvenuto all'inferno No andiamo via Stupido pollo Benvenuto all'inferno No 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 Ma chi è che mi attacca? No 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 Ti sta bene maledetto I blaze Ho preso la freccia del nether Ah e quanto costa la freccia del nether? Eh ti piacerebbe eh? Allora ho bisogno di ferro Bisogno di ferro per farmi una spada Devo ammazzare così stupiti i blaze No vabbè ma non è possibile la freccia del nether Scusa Veloce 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 Fanno tutto l'ora al posto tuo Veloce 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 A quanta vita ti ho lasciato? Eh full sono Eh sì vabbè non ti crede nessuno Sei là sotto eh? Dove? Oh cavolo ma perché mi attaccano anche a me i miei blaze? Sono stupidi C'hai i blaze stupidi Ok io c'ho delle altre frecce Dove sei? Eccoti No non ne ho più Cavolo Ma che cavolo mi sparo? Non ci credo Non ci credo ti sei fatto battere Mi hanno ammazzati i miei blaze Ragazzi si è fatto battere dai suoi stessi blaze Non è possibile Cioè invece di darti fastidio a te A me Vuoi la rivincita? Oppure ti vuoi fare pelato immediatamente? No no Oh guarda Il campione Il vincitore dei vincitori Dai non è giusto Vieni su Dai facciamo la rivincita Allora che mappa vuoi? Bella faccia la mappa dei ghiacci La giungla La giungla La deserto Montagna Io voglio la mappa dei ghiacci Ghiaccio Oh No vabbè No ma è bellissima Ma cos'è? È bellissima Vai Dai la facciamo sciogliere Vai Bene adesso che sappiamo come si gioca Non avrai speranze Non avrai speranze Siamo 1-0 per me comunque Uh bella la mia casa Sì molto Beh abbiamo la stessa casa La mia casa Bella la mia Bella la mia casa E la mia no? Ok Ok i materiali sono più o meno gli stessi Ma quella del nether Cioè quella del nether veramente Era fortissima Però Però come hai visto Ti hanno ucciso poi i blades Ti sono ritorti contro I tuoi stupidi blades Bene prendiamo quanto più ferro possibile Abbiamo notato tutti quanti che gli smeraldi sono potentissimi La pioggia di creeper è veramente qualcosa di assurdo Ma anche il meteorite Il meteorite è piuttosto forte Questa volta Kendall vincero io Ok Certo Va bene ti credono tutti Senti quanta tregua facciamo? Eh almeno un minutino Un minuto? Un minuto A partire da ora? Cinque minuti solo cinque Dai Tu pensi veramente di potermi battere? Oh che carino Certo Che carino Allora devo prendere tantissimo carbone Tanta flint Dov'è la flint? Flint 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 Oh ma secondo te Il fuoco può sciogliere tutto questo ghiaccio? Probabile Ok Oh mamma Perché ti ho detto probabile? Eh volevo dire no No? Ok Mi sa che ti arriverà una pioggia di fuoco allora bella faccia No non si può Sì 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 Queste sono le previsioni del meteo Buongiorno Oggi A casa di bella faccia ci sarà una pioggia di fuoco Per il resto tutto soleggiato Un po' nuvoloso al nord Io prendo tutto quanto eh No 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 sta tranquillo Tu cosa stai prendendo? Eh non te lo dico Dai perché? Sto prendendo roba a caso Roba a caso Roba a caso sì Tu hai sempre un piano eh Le robe a caso lui Le robe a caso Ma scusa gli alberi dove sono? Eh eh ti piacerebbe saperlo eh Sai cosa? Io mi rompo casa così posso fare la crafting table Anche se qua c'è già Aspetta Ok facciamo così Facciamo gli stichetti Perfetto Con gli stichetti posso farmi una spada Perché è abbastanza importante Dopodiché ci prendiamo anche Un piccone in ferro Che anche questo è importante per prendere i materiali E direi che il minuto di tregua è passato No Frecce esplosive No Dove sei bella fa? Oh sei dentro casa? Ma sarebbe un peccato se casa tua andassi a fuoco Guardate ragazzi non ci posso credere Oh mio dio Lascia stare casa mia Cosa pensi che succeda se ti uccido lo shop? No Secondo me poi non puoi più comprare niente No non si provare Resti bloccato per sempre Ti devo uccidere lo shop No non puoi uccidere lo shop Come non posso? Scusa è un villager No villager no Ah ma comunque non ti sei ancora accorto Ma a casa tua No la mia casa va in fiamma Fa molto caldo a casa tua al momento No 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 Riesci a spegnerla? Ok ok Ci siamo Ti servirà una pioggia Cosa ci siamo? Tranquilli ci siamo Ci siamo qui Beccati questo No 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 Beccati questo Beccati questo No 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 ce l'ha pioggia Oh cavolo oh cavolo devo stare attento Devo stare attento L'hai finite? Ti distruggo tutta la casa hai capito? Hai finito tutto? Ti distruggo lo shop Secondo me hai finito tutto non hai più niente Ti uccido lo shop Vediamo Non puoi non puoi non puoi non puoi non puoi Ehi non puoi non puoi non puoi Oh è morto Come è morto? Morto lo shop Ma non è vero Beccati questo No 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 Ripari hai ripari Vai 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 Oh cavolo mi hai quasi preso Cavolo la mia casa sta andando tutta fuoco Eh perché non entri dentro bella faccia? Cos'hai paura? No 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 Allora Uh queste belle Belle ne abbiamo ben due Guardate qua ragazzi Uno Oh ti ho preso Ma che cavolo? Non ci posso credere Ti ho preso con la flecce Con la flecce Oh porca mia Oh cavolo La pioggia di TNT Oh mamma No non ci credo ti ho ucciso Ti ho ucciso con la pioggia di TNT Vabbè Non ci posso credere che figata Guarda la mia casa No ti ho massacrato Ti ho massacrato Ti guarda la mia casa Beh bella faccia Vieni qua Chinati di fronte al tuo re per favore Ma neanche per sogno Siamo due a zero Ehi chinati subito di fronte Ehi Seleziona la mappa zoogla Bella faccia No 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 Sai cosa? Se vuoi la rivincita Questo video dovrà superare i 6000 mi piace Quindi mi raccomando ragazzi Scrivete qua sotto nei commenti Se vorreste vedere un'altra guerra Tracchendo le bella faccia Perché beh Oggi l'ho proprio distrutto L'ho proprio stracciato Gli ho fatto proprio male Poverino Dai su Vuoi dire due ultime parole da perdente? No Che hai avuto fortuna Ah due volte Ragazzi mi raccomando Lasciate un bel mi piace E iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora fatto Dal vostro candle E da bella faccia è tutto E fatemi sapere qua sotto nei commenti Se vorreste vedere un altro video Delle guerre con le frecce E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao